21 e 22 ottobre, 27, 28 e 29 ottobre, 40esima edizione della Sagra della Castagna del Tartufo, Bagnoli Spino, Avellino. L'ASL giorno 2 ottobre insieme all'ARPAC sono già passati da noi, hanno fatto tutta la campionatura, per cui i risultati loro ce l'hanno e loro trasmessi il giorno 13 sono tutti negativi. Ecco il perché. Comunque siamo a disposizione loro dell'ASL, stiamo preparando ulteriori documenti che abbiamo fatti ai nostri esposti, siamo disposti a collaborare per la reperduta immediata della struttura. Però come mai hanno chiuso l'impianto? Non lo so, guardate, loro ci stanno chiedendo degli accorgimenti tecnici, dei documenti in questo momento, però è fondamentale che i risultati delle analisi fatte da loro, da noi in autocontrollo, sono tutti negativi. Per cui una volta completato quest'iter delle carte, credo che riapriranno immediatamente le terme. Lei ha anche una documentazione che attesta quello che sta dicendo? Sì, diciamo che in questo momento io quello che posso fornirvi sono i dati di campionamento effettuati dall'ARPAC e dall'ASL. I risultati ancora no perché sono stati comunicati in via ufficiosa. Intanto i proprietari come hanno preso questa notizia? Certo non hanno preso una bella notizia perché in effetti noi pensavamo, visto che non c'era una cosa diretta, avevano queste comunque documentazioni di negatività proprio sulle acque termali, eventualmente avrebbero riaperto quasi subito e poi chiederci eventualmente dell'integrazione su dei documenti cartacei. C'è stato qualche guasto però che non sono accertati questi casi di legionella? Guardi, io i casi accertati della legionella da parte dell'ASL non li conosco perché per una questione di privacy non li conosciamo. Loro ci hanno comunicato questo, però è quello che io posso dirle. Dalle nostre analisi di autocontrollo che facciamo periodicamente ogni 15 giorni, dai loro campionamenti effettuati in data 2 e comunicati a loro in data 13 ottobre, sono negativi. Il sindaco ha parlato di danno? Il sindaco ha fatto una sua dichiarazione, sì. Ha parlato di danno nei confronti dei cittadini per l'immagine? C'è sempre un danno di immagine, un danno di giudiziazioni, su questo sì non ci piove, sicuramente ci sarà un danno. Voi contate di riaprire quanto prima? Noi contiamo di riaprire quanto prima, almeno la settimana prossima se è possibile, almeno metà settimana. Si sente di rassicurare comunque gli utenti? Ma io già sto rassicurando gli utenti in base alle nostre analisi e alle loro.